Come poter eliminare il cattivo odore dalle scarpe? Il procedimento è molto semplice ma si può fare in vari metodi però sempre legati al bicarbonato quindi cosa si può fare? Allora innanzitutto si può prendere il bicarbonato con la giusta quantità tipo un cucchiaio, un cucchiaio e mezzo e metterlo per ogni tipo di scarpa però mi raccomando le scarpe non devono essere di cuoio o di pelle perché si potrebbero rovinare in questo caso soprattutto se questo procedimento viene utilizzato molto spesso e quindi quello che conviene più farlo in scarpe che non hanno questi tipi di materiali bisogna cercare anche di fare in modo che il bicarbonato stia solo all'interno della scarpa ma non che fuoriesca perché se fuoriesce e tocca il materiale si potrebbe rovinare questa operazione conviene farla almeno una volta al mese se voi doveste decidere di prenderlo e mettere il bicarbonato all'interno della scarpa voi non dovete stare a strofinarlo con le dita o con qualche altro arnese diciamo come ad esempio uno spazzolino ma dovete cercare semplicemente di prendere la scarpa e di agitarla così tutto il bicarbonato si estenderà su tutta la sua letta ma in modo naturale e quindi è più facile che poi potrà assorbire l'odore ma devono passare almeno 12-24 ore per poter così eliminare l'odore una volta terminato questo periodo di tempo dovete prendere e togliere tutto il bicarbonato e buttarlo all'interno di un cestino se poi vedete che rimane allora aspirato con l'aspirapolvere però per evitare questo tipo di problema che potrebbe essere molto fastidioso alla lunga conviene prendere il bicarbonato e metterlo all'interno di un sacchetto di cotone e quindi puoi legarlo e metterlo all'interno della scarpa in questo modo non potrete sporcare la scarpa e quindi potrete sfilarlo facilmente e infilare il piede senza problemi se invece poi volete che la scarpa oltre che viene eliminato l'odore ma deve anche profumare allora dovete mettere il bicarbonato in una ciotola e aggiungere ogni tanto degli oli essenziali però poi dovrete essere voi a scegliere che tipo di profumo dovete mettere all'interno del bicarbonato in questo modo sarete più felici perché avrete il profumo che desiderate una volta messi gli oli essenziali all'interno della ciotola di bicarbonato dovete mescolarlo in modo che così si amalgama bene e poi potete per sempre prendere di nuovo il bicarbonato e metterlo all'interno delle stoffe che avete creato voi o dei sacchetti in modo che così non dovete stare a pulire ogni volta la scarpa e mettiamo il caso che voi avete le ciabatte che puzzano e quindi volete eliminare questo odore sgradevole cosa bisogna fare? allora la risposta è semplice anche da questo punto di vista potete prendere il bicarbonato e inserirlo dentro un sacchetto e prendere poi le ciabatte e inserirle all'interno prendere il sacchetto, scuoterlo in modo che così almeno loro possano avere il tempo di assorbire tutto il bicarbonato oppure potete utilizzare un altro metodo cioè di prendere il bicarbonato bagnarlo leggermente in modo che diventa più denso diventa proprio una specie di poltiglia da prenderlo e metterlo all'interno della ciabatta quindi quando mettete la ciabatta potete poi spalmarlo e lasciarlo lì per almeno una mezza giornata oppure un giorno o anche di più se è il caso ma mettiamo il caso che non volete fare in questo modo come potete fare? potete semplicemente prendere una bacinella riempirla d'acqua inserire all'interno il bicarbonato e farlo sciogliere e una volta sciolto prendere le ciabatte e inserirle all'interno ma soprattutto che siano capavolte dal punto di vista della suola in modo che così almeno può assorbire bene tutto il cattivo odore che nessuno di noi desidera avere ecco questi sono alcuni metodi pratici che ho deciso di consigliarvi in modo che voi possiate utilizzarlo quando occorre ma prima di terminare il video vi chiedo di mettere un bel like e non solo ma anche di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di commentare qui sotto di condividere questo video ed inserire anche la campanella così almeno potrete essere informati ogni volta che pubblicherò un nuovo video quindi per adesso questo video è terminato io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao